Grazie a tutti. E' un'iniziativa importantissima, io sono di Praia Maia e sono molto contento perché è la prima volta che finalmente riusciamo a fare qui un tavolo a Praia e con tutti gli altri fatti in questi anni in giro per la Calabria, a dimostrazione del fatto come poi la pratica della democrazia aiuti a farne fuori tutto quello che la partitocrazia ha tenuto nascosto in tutti quanti questi anni, con delle percentuali a favore appunto dell'etanasia del testamento biologico che sono nettissime in tutta quanta Italia, così come le erano per il finanziamento pubblico dei partiti, per lui nominale, così come lo sono adesso per Emma Bonino alla presidenza della Repubblica, solo per fare alcuni esempi. E come poi la partitocrazia ha distrutto tutto quello che il Partito Radicale a mio avviso in tutti quanti questi anni era riuscito a costruire come coscienza di una legalità che si costruisce appunto con la pratica diretta della democrazia. Anche chi non è d'accordo ma basta semplicemente il colloquio poi arriva alla conclusione che non ho il diritto di imporre la mia volontà agli altri. Diciamo sin da subito che comunque battaglie radicali in precedenza come l'aborto, il divorzio, libera scelta dei singoli individui, sono state vinte proprio per un certo consenso popolare che come diceva lo stesso Marco Pannella era proprio da parte dei cosiddetti nonni, dalle donne che adesso appunto sono anziani e hanno permesso alle persone che adesso invece sono giovani, anche i quarantenni, poter utilizzare strumenti come il divorzio e l'aborto che altrimenti non sarebbero stati legali. Quindi perché non legalizzare anche l'eutanasia o il testamento biologico e il fine vita visto che bisogna poi andare all'estero per veder riconosciuto un diritto che è quello anche di una morte dignitosa? Certo, infatti proprio negli esempi che tu hai fatto io credo che la parteocrazia si sia inserita nel tagliare quello che proprio i dibattiti che appunto loro dicevano essere talmente laceranti per i quali il paese non era pronto, noi viceversa abbiamo dimostrato che non è che era pronto, era viceversa prontissimo, come era prontissimo a recepire, a capire, a cogliere, a avere contezza l'importanza della legalità e del rispetto delle regole che purtroppo è sempre più carente rispetto a quello che noi viceversa eravamo riusciti a costruire come attenzione alla forma, alle procedure che oggi anche nei giovani è completamente assente perché proprio quelle battaglie vinte avevano dato al paese l'importanza di conquistarsi attraverso il confronto, il ragionamento, le conquiste e quindi conquistarsi la legalità e avere dalla prima parte la Costituzione e quindi l'occhio, l'attenzione alle regole, alle procedure, alla forma che proprio l'occupazione partitocrate delle istituzioni e quindi della pratica diretta della democrazia ha fatto sì che poi proprio quelle percentuali ancora alte siano annacquate dalla impossibilità di poter contare in quanto la distruzione della pratica della democrazia ha fatto sì che poi nella gente non ci sia neanche più tanta attenzione alle regole, alla forma se non quanto si riesce a stimolarla con lotte durissime, con sciopera fame, sciopera sete come per esempio noi abbiamo fatto due anni a questa parte per l'emergenza a carceri e per la riforma della giustizia lo dico perché poi tutto quanto collegato e anche quell'aspetto non è altro che sarebbe un'applicazione poi della Costituzione come il testamento biologico e l'autanasia nella coscienza e la stragrande maggioranza della gente vorrebbero che vorrebbe praticamente nel tasso che è una legge o meglio un regolamento attuativo dei principi a fondamento della Costituzione la vita è mia perché questo dice la Costituzione è nata dal nazifascismo ed è mia così come lo sancisce l'articolo 32 della Costituzione e questa proposta di legge non fa altro che ricepire e applicare quello che poi in Italia non è stato mai tradotto costruendo appunto quella cappa di oppressione partitocratica perché la zona grigia potesse viceversa scegliere per noi scegliere per tutti, scegliere per la persona e quindi direttamente per la collettività perché poi da questo si arriva a blu quindi anche a creare la zona grigia dalla negazione dei diritti della persona alla negazione dei diritti delle regole della forma, dell'importanza dell'attenzione alla forma e alle procedure Perfetto, ringraziamo ancora Claudio Giuseppe Scardaferri, vi invitiamo a firmare per legalizzare l'eutanasia e il testamento biologico con una proposta di legge appunto di iniziativa popolare che stiamo facendo proprio qui a Praia Mare Grazie ancora Claudio Grazie a tutti